Anche nelle scuole di Teramo è partita la campagna di massa anti-Covid-19. Dieci punti di raccolta per studenti, docenti e personale scolastico, dove saranno effettuati i prelievi dei tamponi antigenici necessari a monitorare il quadro di diffusione del virus negli istituti. Per le scuole superiori si tratta del primo screening. In totale 11.000 persone interessate. Saranno tre giornate intense perché lo screening si farà sia la mattina che pomeriggio. Per le scuole superiori durante l'orario scolastico, quindi i ragazzi usciranno dalle classi per venire, come potete vedere nell'aula magna, a fare sottoporsi dello screening. Per quanto riguarda invece le scuole elementari e medie, verranno di pomeriggio accompagnati dai genitori. I ragazzi delle superiori, con un'autocertificazione da parte dei genitori, hanno autorizzato la possibilità di poter fare lo screening. Ci sono dieci postazioni, sedici linee attivate. Questa mattina devo dire che rispetto al precedente screening che abbiamo fatto, tutti i sanitari e tutte le scuole erano già pronte prima delle otto, ancora prima che arrivassero i medici. Per cui abbiamo avuto già una partenza veramente, secondo me, importante, e che denota la sensibilità dei nostri sanitari, la sensibilità dei nostri presidi e anche, secondo me, la sensibilità di questa amministrazione comunale. I tamponi ci sono? I tamponi ci sono e laddove dovessero terminare, perché l'affluenza dovesse veramente avere dei numeri elevatissimi, siamo già d'accordo con la protezione civile regionale per andarle a prendere in qualsiasi momento. Quindi il problema dei tamponi non c'è. C'è semplicemente di stare tranquilli, di pensare, di sottoporsi allo screening in modo tale non solo da vedere lo stato di salute personale, ma anche pensando ai propri amici, ai propri colleghi, ai compagni di classe e ai professori e a tutta la comunità scolastica.